Buone notizie sulla vicenda di ponte San Gabriele a Terramon. L'ANAS ha ufficializzato lo stanziamento di oltre 3 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione del ponte. L'ANAS ora provvederà ad ottemperare le operazioni inerenti ai diversi passaggi progettuali ed è presumibile sostenere per la stessa dichiarazione della società che i lavori potrebbero prendere il via all'incirca tra sei mesi. Una notizia importante, una notizia che abbiamo accolto con grande entusiasmo anche perché è stato il frutto veramente di un lavoro di squadra da parte di tutti, non soltanto da parte del Comune, nella persona dell'ingegner Manetta ma anche grazie all'intervento della Prefettura, dell'ANAS e della Protezione Civile Regionale che ci hanno aiutato a portare questo ottimo risultato a casa. I fondi che sono all'incirca 3 milioni e 150 mila euro prevedono una fase di progettazione. Sarebbe stato l'ideale riuscire a ritrovare gli elaborati progettuali iniziali del ponte che purtroppo non sono nella disponibilità né dell'ANAS né siamo riusciti a trovarli presso il Genio Civile e l'Archivio di Stato. Questo comporterà che l'ANAS dovrà fare dei sondaggi puntuali sul ponte ma dall'interlocuzione avuto ieri con l'ingegner Marasco loro pensano di riuscire a portare avanti la progettazione e quindi poi affidare tramite gara i lavori entro massimo sei, sette mesi. Una volta iniziati i lavori quanto dureranno? Dipende. Teniamo conto che sono a disposizione 3 milioni di euro e che bisogna fare anche un intervento che non è focalizzato soltanto sul sedimento stradale ma sulle strutture del ponte. Quindi sarà un intervento pesante e l'amministrazione ovviamente si adopererà a far sì che questi lavori per tutto il periodo non comportino un danno alla viabilità che debba essere poi rimarcato sulle spalle dei cittadini. Quindi ci attiveremo per far sì che non si subiscono dei disagi.